buongiorno buongiorno oggi siamo qui a fare a ritestare il nuovo comanci di top frame eccolo qui il telaio del comanci praticamente diciamo che le novità di questo telaio sono i bracci inclinati ancorati con un aggancio studiato ad hoc sul telaio che viene tenuto fisso da tutti gli standoff che ci sono sotto il telaio telaio 3 mm molto ma molto resistente supporto gps per chi volesse usarlo la cam si può modificare inclinazione semplicemente spostando a mano il portacam quattro tacchettine che indicano i gradi della cam quindi 10 20 30 e 40 gradi le turbine per i tubi di scarico ovviamente del motore in più qua all'interno si può c'è uno scasso dove si può infilare la usb come si nota molteplici fissaggi per tutti i tipi di fly control piccole ovviamente il supporto dell'antenna questo è stato studiato appositamente per la o3 ma verranno fatti anche per la maggioranza dei sistemi di boutiques in commercio e l'altra chicca sono i bracci inclinati verso l'interno si l'ho detto prima l'altra chicca sono i bracci inclinati verso l'interno con una gradazione verso l'interno che aiutano il volo aiutano anche con il problema del proprio wash e gli conferiscono una dinamica di volo molto interessante infatti volare con questo piccolo comalci è uno spettacolo i bracci sono sostituibili in caso di rottura tutto 3 mm carbonio ultra resistente e abbiamo di più abbiamo di più perché il progettista è lui il progettista ecco con qua si vede l'inclinazione dei motori durante poi il volo anche che spinge il vortice delle eliche all'esterno com'è diego il feeling è venuto a trovarci anche mauri ah diego poi non abbiamo detto un'altra cosa che presto ci sarà una recensione da parte di chi di un grande che dice sempre daje che spruzza spruzza la grande che sprende che spende 46 fly distance riparte a zero dire le specifiche allora 91 km orari 4 km e 46 distanza tempo tempo 5 minuti e 20 tirando secco ma massima corrente 17 minzica è sparito tutto altitudine adesso 350 metri quella è la porta apposta apposta